No, allora, anzitutto è la conversione di Roma. Quindi, primo punto, abbiamo la conversione di Roma. A quel punto abbiamo la confusione, cioè la fusione insieme, che vi è fra la Chiesa e l'Impero. Chiesa e Impero coincideranno per un po' di tempo. Poi, a un certo momento, questo Impero inizia a crollare. Allora, la Chiesa si chiede, possiamo noi essere destinati al crollo? Questa cosa non è possibile. Allora, i chiestiani che fanno? Vivono la Chiesa e si separano dal mondo, tentano di salvare l'Impero, abbiamo lo stesso destino. E qui il ragionamento di Agostino. Voi considerate, Agostino è nel Nord Africa. Dal 410 arriveranno da Agostino per mare una marea di migranti, una marea di profughi che scappano da Roma distrutta. Il secolo di Roma è qualche cosa di mostruoso, è qualche cosa di spaventoso. Immaginatevi un pochettino quello che è successo in Siria, per intenderci. Una marea scappano, arrivano da lui, anche da lui, ma arrivano da tutto il mondo, e lui ce l'ha davanti questi quelli e dice, oddio, e questi sono disperati. Cioè, sono di fronte all'Apocalisse, sta finendo tutto. Allora, il suo ragionamento è, come salviamo anzitutto la speranza? E poi tutto il resto. Ma la speranza è qualche cosa che deve superare il confine storico, sociale, economico, politico, geografico di Roma. La speranza non coincide più con Roma, va oltre Roma. Oltre dove a un domani Agostino gli dice, vabbè, dai, non vi preoccupate, adesso ci rimbocchiamo le maniche, facciamo le riforme e vedrai che questo impero lo tiriamo su. Fa questo? No, non è questa la speranza. Non solo perché quella cosa non era realmente possibile, ma perché si rende conto che anche se fosse stato possibile, non sarebbe stato risolutivo. Come dicevamo prima, la speranza non è dire al marato terminale, guarda che poi vedrai che guarisci. Che cazzo di speranza è? Perché tanto poi morirà dopo. Quindi è una speranza finta. Non può essere quella. Cioè dire adesso facciamo le riforme e risistemiamo questo paese. Ma che speranza è? La speranza va oltre questo. E non va oltre nel tempo. Non è dire, dopo l'impero romano crollerà, ma la chiesa resisterà. Ma che speranza è? Io qui non vedrò quei tempi. Non può essere una speranza questa. Allora, la speranza si deve spostare in verticale, verso l'alto. E iper-uranos potremmo dire? Sì, però iper-uranos potrebbe sembrare negativo. Quindi è una chiacchiera che sta lontano, sta dall'altra parte del mondo e del tempo. Non è lì il discorso. Il discorso è che si sposta sul sopramondo. Cioè c'è una cittadinanza, al quale tutti noi siamo chiamati, che merita di essere portata avanti in ogni momento, nel qui e nell'ora. C'è una vita sociale, una vita politica e merita di essere vissuta in pienezza, in totale dedicazione, indipendentemente da qualunque cosa noi stiamo vivendo. Fosse anche la fine della nostra civiltà, che è quello che sembrano di vivere i romani quando appunto nel 410 Alarico conduce i goti al saccheggio della capitale. E come vivere questa cittadinanza? Vivendo nello stesso tempo la cittadinanza di Dio. Vivendo nella città di Dio. E come fai a vivere nella città di Dio? E qui è la questione. Ci sono due opzioni che vengono scartate entrambi. Una è quella gnostica. Rifiuta l'impegno nel mondo e dedicati esclusivamente alle cose spirituali. Lascia perdere, non ti importare di tutta quella che è la politica, che ti frega. Dedicati soltanto al cura di questioni mistiche. L'opzione gnostica e Agostino la rifiuta. C'è l'altra opzione, quella pelagiana, quella virtuosistica. Fai tutto per salvare questa città. Perché? Perché la salvezza di Dio passa tramite la salvezza di questa città. Eh, però, e se questa poi non va avanti? E se io non ce la faccio? E via dicendo? Allora, quella di Agostino non è una via di mezzo fra i due. Non è, vabbè, fai un po' di preghiera, però un po' ti impegni, però non ci tenere troppo. No, va proprio oltre questo conflitto dell'epoca e dice La città di Dio si realizza a partire dalla vita terrena nel momento in cui tu sei totalmente dedito al bene il più possibile. La grazia di Dio ti supporta, ti ispira all'inizio, ti supporta nel mentre e finalizza questo tuo impegno in un orizzonte di senso che va oltre ciò che tu vedi, anche se non te ne rendi conto. E quindi vale la pena, ecco la speranza, vale la pena anche quando vedi che tutto sta andando in malora, vale la pena lo stesso. Perché? Perché c'è la grazia di Dio che sta mettendo in ordine i pezzi in una maniera che non ti aspetti. In una direzione che non è quella che tu ti immagini. Questa città di Dio non è la chiesa. Questa città dell'uomo non è l'impero all'epoca, cioè non è la vita politica, non coincide con la città concreta. La città di Dio e la città dell'uomo sono due città mistiche che convivono nella nostra vita quotidiana, nella nostra società e vengono edificate una tutte le volte che uno opera per il male o tutte le volte che uno opera male e viene edificata l'altra tutte le volte che uno opera bene o tutte le volte che uno opera per il bene. Quindi la città di Dio inizia a vivere nel qui e nell'ora, un po' come le radici di un albero, anche se vedrà sulla sua chioma, la sua realizzazione definitiva, soltanto nel Regno dei Cieli. In questa maniera si apre il tema della doppia cittadinanza del cristiano, che da una parte è cittadino effettivamente lì dove vive e dall'altra è chiamato a vivere in questa direzione, verso la città di Dio.